molti di voi mi hanno chiesto qual è il metodo migliore per studiare il tedesco in verità non c'è un metodo specifico a mio parere è opportuno crearsi un proprio metodo tenendo presente tutto quello che c'è da imparare ovviamente in modo da crearsi almeno le basi almeno le basi per poter dialogare e interagire parlando in tedesco dobbiamo quindi innanzitutto capire bene cosa si intende avere le basi se io voglio parlare in un'altra lingua devo conoscere bene almeno i verbi di uso comune che sono i verbi che vengono usati nel quotidiano ad esempio il verbo andare il verbo venire mangiare lavorare il verbo essere camminare eccetera questi verbi di uso comune sono almeno una cinquantina bisogna studiarli bene impararli a memoria sarebbe ottimo studiare un verbo al giorno a prescindere dal metodo di studio che avete scelto per imparare il tedesco poi ci sono gli aggettivi qualificativi almeno una trentina di aggettivi qualificativi sono di uso quotidiano ad esempio buono cattivo bello brutto sano malato giusto sbagliato allegro triste eccetera anche questi aggettivi qualificativi vanno studiati bene bisogna impararli a memoria quindi anche per questi aggettivi bisogna dedicarci un po di tempo ogni giorno almeno un quarto d'ora un 20 minuti poi ci sono le regole grammaticali anche queste vanno imparate a memoria bisogna esercitarsi con delle frasi per imparare tali regole dedicandoci almeno una mezz'ora al giorno poi ci sono i nomi in particolare i nomi di oggetti e i nomi astratti di uso comune ad esempio casa barca strada automobile muro sono tutti i nomi di oggetti di uso comune cioè che usiamo nel quotidiano poi ci sono i nomi astratti ad esempio coraggio intelligenza volontà tristezza obiettivo pensiero bontà eccetera sia i nomi di oggetti che i nomi astratti sempre di uso comune ne sono almeno un centinaio bisogna anche questi impararli a memoria quindi bisogna dedicare un po di tempo ogni giorno anche allo studio di questi nomi quindi a prescindere dal metodo che avete scelto per studiare il tedesco all'inizio del vostro percorso di studio dovete dedicare del tempo allo studio di nomi aggettivi verbi regole grammaticali e anche ovviamente dedicare del tempo all'ascolto di dialoghi per memorizzare semplici frasi inoltre con l'ascolto dei dialoghi oltre a memorizzare semplici frasi si impara piano piano anche il modo di parlare in tedesco il modo di costruire una frase in tedesco ed ora è proprio su questo ultimo punto che mi voglio soffermare il modo di parlare in tedesco in tedesco le frasi vengono formate in modo diverso da come le formiamo in italiano e secondo me bisogna dare importanza a questo ed esercitarsi nel formare frasi alla tedesca anche quando parliamo in italiano vi faccio un esempio se io chiedo in italiano ad un amico cosa ne pensi in tedesco la frase viene formata così cosa pensi tu cosa ne pensi cosa pensi tu was denkst du was denkst du cosa pensi tu se io chiedo in italiano posso comprarlo posso comprarlo in tedesco devo dire posso io esso comprare kann ich es kaufen posso io esso comprare kann ich es kaufen kann ich es kaufen È vero che molte frasi vengono imparate a memoria, ma è anche vero che non possiamo imparare tutte le frasi a memoria, quindi noi siamo costretti a formare nella nostra mente una frase in italiano, poi dobbiamo tradurla in tedesco cambiando anche la costruzione della frase. È un doppio passaggio che ci rallenta nel parlato, cioè se noi stiamo parlando con un tedesco lo facciamo con lentezza perché dobbiamo tradurre una frase che prima formiamo in italiano nella nostra mente e poi dobbiamo anche costruirla in tedesco nel modo giusto. È un lavoraccio. Quindi bisogna imparare a pensare le frasi in italiano, ma con la struttura della grammatica tedesca. Vi faccio ora svariati esempi in modo da esercitarvi già da ora a costruire frasi in italiano, ma con la struttura della grammatica tedesca. Prendersi un raffreddore. Vedete, basta parlare alla tedesca, cioè basta parlare un italiano tedeschizzato e già la frase diventa poco comprensibile. Apro una piccola parentesi. Per quanto riguarda la formazione e la costruzione della frase in tedesco, vi rimando ai miei video sulla costruzione della frase affermativa, negativa ed interrogativa. Passiamo alla seconda frase. Lasciamo noi dieci minuti pausa fare. Lass uns zehn minuten pausa machen. Io auguro a te un buon fine settimana. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Per favore, di esso ancora una volta. Bitte, sag es noch einmal. Puoi tu questa parola, per favore, sillabare? Kannst du das Wort bitte buchstabieren? Ieri ho io a me preso raffreddore. Gestern habe ich mich erkeltet. Lasciamo noi dieci minuti pausa fare. Lass uns zehn minuten pausa machen. Io auguro a te un buon fine settimana. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Per favore, di esso ancora una volta. Bitte, sag es noch einmal. Puoi tu questa parola, per favore, sillabare? Kannst du das Wort bitte buchstabieren? Io ho non capito. Ich habe nicht verstanden. Loro sono in ogni momento benvenuti. Sie sind jede Zeit willkommen. Quanto tempo eri tu? In Australien? Wie lange wirst du in Australien? Esso dovrebbe domani piovere. Es soll morgen regnen. Io sento me non bene. Ich fühle mich nicht gut. Io ho non capito. Ich habe nicht verstanden. Loro sono in ogni momento benvenuti. Sie sind jede Zeit willkommen. Quanto tempo eri tu? In Australien? Wie lange wirst du in Australien? Esso dovrebbe domani piovere. Es soll morgen regnen. Io sento me non bene. Ich fühle mich nicht gut. Esso è così difficile se stesso a decidere. Es ist so schwer sich zu entscheiden. Loro studiano entrambi nella stessa università. Sie studieren beide in der gleichen Universität. E il museo i lunedì aperto? Ist dea museum montags geöffnet? Io vorrei volentieri un poco tempo al sole trascorrere. Ich mochte gerne etwas Zeit in der Sonne verbringen. Esso è così difficile se stesso a decidere. Es ist so schwer sich zu entscheiden. Loro studiano entrambi nella stessa università. Sie studieren beide in der gleichen Universität. E il museo i lunedì aperto? Ist dea museum montags geöffnet? Perdono, può lei a me dire dove se stessa la stazione trova? Verzeiung, können Sie mir sagen, wo sich der Bahnhof befindet? Io vorrei volentieri un poco tempo al sole trascorrere. Ich möchte gerne etwas Zeit in der Sonne verbringen. Io posso con tacchi alti non camminare. Ich kann mit Stöckelschuhen nicht laufen. Buone giornata. Io vorrei per un cappellitaglio un appuntamento fissare. Guten Tag. Ich wollte für einen Haarschnitt einen Termin vereinbaren. Io sono non affamato. Io sono solo molto assetato. Ich bin nicht hungrig. Ich bin nur sehr durstig. Questa moto è molto bella. Quanto costosa è lei? Dieses Motorrad ist sehr schön. Vitoia ist sie? Può lei a me un tradizionale ristorante nel centro città raccomandare? Può lei a me un tradizionale ristorante nel centro città raccomandare? Io posso con tacchi alti non camminare. Io posso con tacchi alti non camminare. Ich kann mit Stöckelschuhen nicht laufen. Buone giornata. Io vorrei per un cappellitaglio un appuntamento fissare. Guten Tag. Ich wollte für einen Haarschnitt einen Termin vereinbaren. Io sono non affamato. Io sono solo molto assetato. Ich bin nicht hungrig. Ich bin nur sehr durstig. Questa moto è molto bella. Quanto costosa è lei? Dieses Motorrad ist sehr schön. Vitoia ist sie? Può lei a me un tradizionale ristorante nel centro città raccomandare? Können Sie mia ein tradizionelles restaurant in der inne stadt empfehlen? Ora vi ripeterò tutte e venti le frasi pronunciandole solo in tedesco. Ad ogni frase da me pronunciata voi dovrete eseguire una traduzione letterale. Vi faccio un esempio. Io dico Ist der Museum Montags geöffnet? E voi fate la traduzione letterale. E il Museo il lunedì aperto? Ovviamente ad ogni frase vi lascio almeno un cinque secondi per tradurre e poi vi faccio apparire il testo con la traduzione. Lass uns zehn Minuten Pause machen. Lasciamo noi dieci minuti pausa fare. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Io auguro a te un buon fine settimana. Bitte sag es noch einmal. Per favore, di esso ancora una volta. Kannst du das Wort bitte buchstabieren? Puoi tu questa parola per favore sillabare? Ich habe nicht verstanden. Io ho non capito. Sie sind jede Zeit willkommen. Loro sono in ogni momento benvenuti. Wie lange warst du in Australien? Quanto tempo eri tu in Australien? Es soll morgen regnen. Esso dovrebbe domani piovere. Ich fühle mich nicht gut. Io sento me non bene. Es ist so schwer sich zu entscheiden. Esso è così difficile se stesso a decidere. Sie studieren beide in der gleichen Universität. Loro studiano entrambi nella stessa Universität. Ist der Museum montags geöffnet? E il Museo il lunedì aperto? Verzeihung, können Sie mir sagen, wo sich der Bahnhof befindet? Verzeihung, können Sie mir sagen, wo sich der Bahnhof befindet? Ich möchte gerne etwas Zeit in der Sonne verbringen. Ich kann mit Stöckelschuhen nicht laufen. Ich kann mit Stöckelschuhen nicht laufen. Ereihung, wenn Sie nicht laufen. Guten Tag. Ich wollte für einen Haarschnitt einen Termin vereinbaren. Buon Tag. Ich möchte für einen Haarschnitt einen Termin vereinbaren. Buon Tag. Buon Tag. Ich bin nicht hungrig. Ich bin nur sehr durstig. Io sono non affamato. Io sono solo molto assetato. Dieses motorrad ist sehr schön. Wie teuer ist sie? Questa moto è molto bella. Quanto costosa è lei? Können Sie mir ein tradizionales Restaurant in der Innenstadt empfehlen? Può lei a me, un tradizionale Ristorante nel Centrocittà, raccomandare? Ora facciamo il procedimento inverso. Io vi dico le frasi in italiano e voi me le traducete in tedesco. Ieri ho preso il raffreddore. Gestern habe ich mich erkältet. Riposiamoci per dieci minuti. Lass uns zehn Minuten Pause machen. Buon fine settimana. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ripetilo, per favore. Bitte, sag es noch einmal. Puoi farmi lo spelling, per favore? Nein. Kannst du das Wort bitte buchstabieren? Nono capito. Ich habe nicht verstanden. Siete sempre benvenuti. Sie sind jede Zeit willkommen. Per quanto tempo sei stato in Australia? Wie lange warst du in Australien? Domani dovrebbe piovere. Es soll morgen regnen. Non mi sento bene. Ich fühle mich nicht gut. È molto difficile scegliere. Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Vanno alla stessa università? Sie studieren beide in der gleichen Universität. È aperto il Museo di Lunedì? Ist der Museum Montags geöffnet? Mi scusi, puu dirmi dove la stazione? Vor restare un poalsone. Ich möchte gerne etwas Zeit in der Sonne verbringen. Non riesco a camminare coi tacchi alti. Ich kann mit Stöckelschuhen nicht laufen. Buona giornata. Vorrei prendere un appuntamento per un taglio di capelli. Guten Tag. Ich wollte für einen Haarschnitt einen Termin vereinbaren. Non ho fame, ma solo molta sede. Ich bin nicht hungrig. Ich bin nur sehr durstig. Questa moto è molto bella. Quanto costa? Mi può consigliare un ristorante in centro che faccia cucina tradizionale? Können Sie mir ein tradizionelles Restaurant in der Innenstadt empfehlen? Ora passiamo ad un qualcosa di più complesso. Formiamo tre o più frasi. Non spaventatevi e non scoraggiatevi. Con la ripetitività, quello che per voi ora è difficile da imparare, diventerà abbastanza facile. Allora, io voglio parlarvi di Roma. Voglio dire che è la capitale d'Italia ed è stata la capitale dell'Impero Romano. Voglio dire che la città è situata al centro della nostra penisola, che è attraversata dal Tevere e che, secondo un'antica leggenda, è stata fondata nel 753 a.C. E in ultimo voglio fare un accenno sul dominio etrusco e sulla conquista del Mediterraneo in una sola frase, massimo in un paio di frasi. Ok, vediamo. Formiamo queste frasi alla tedesca. Roma è la capitale italiana e storica capitale del Romano Impero. Roma è la capitale italiana e storica capitale del Romano Impero. La città si trova nel centro di italiana penisola, su fiume Tevere. Die città liegt in der Mitte della italianischen Alpinsel am fluss Tiba. La città si trova nel centro di italiana penisola, su fiume Tevere. Die città liegt in der Mitte della italianischen Alpinsel am fluss Tiba. La, da parte dei Romani, praticata leggenda nel fu Roma in anno 753 a.C. fondata. La, da parte dei Romani, praticata leggenda nel fu Roma in anno 753 a.C. fondata. der von den Roman praktizierten leggenda nach Wude Rom im jare 753 a.C. gegründet. Dopo lo scrollarsi di dosso, l'influenza degli Etruschi affirma se stessa Roma come una indipendente città-stato. Nach der abstrung des influsses della Etrusca etabliate sic rum als ein unabendiger stadt-staat che nel corso dei secoli Italia e poi la gran parte di antico Mediterraneo in possesso prendere potè welchia im laufe Rom ist di hauptstatt italiens und istorische hauptstadt des romischen reis. La città si trova nel centro di italiana penisola su fiume Tevere. La città liegt in der Mitte der italienischen Alpinsel am fluss tiba. La, da parte dei Romani praticata leggenda nel fu Roma in anno 753 avanti Cristo fondata der von den Romani praktizierten leggenda nach Wude Rom im Jahre 753 vor Christus gegründet Dopo lo scrollarsi di dosso l'influenza degli Etruschi affirma se stessa Roma come una indipendente città-stato nach der abstellung des einflusses der Etrusca etablierte sich Rom als ein unabhängiger stadt-staat che nel corso dei secoli Italia e poi la gran parte di antico Mediterraneo in possesso prendere poté welcher im laufe der jahrhundette italien und daraufhin den großen teil des antiken mittelmeerraums in besitz nehmen könnte attenzione ora vi leggerò tutte le frasi in tedesco ma molto lentamente voi leggerete in contemporanea ma solo mentalmente cioè leggerete assieme a me ma non ad alta voce Rom ist die Hauptstadt Italiens und historische Hauptstadt des romischen Reis die Stadt liegt in der Mitte der italienischen Alpinsel am Fluss Tiber der von den Romern praktizierten legenda nach wurde Rom im Jahre 753 vor Christus gegründet nach der Abstimmung des Einflusses der Etrusker etablierte sich Rom als ein unabhängiger Stadt statt welcher im Laufe der Jahrhundette Italien und daraufhin den großen Teil des antiken Mittelmeerraums in Besitz nehmen könnte ver mit bis mit bis zu dem j sch den j net